Questa è la prima serata di teatro. Abbiamo già inaugurato Lavora dell'Arte e abbiamo già iniziato a fare le presentazioni nel bellissimo e suggestivo giardino del santuario. E ora questa commedia è nata ricca ma staro contento. Durante l'estate mediterranea ci saranno altre commedie, sempre qui in Piazza Umberto, ci saranno altre presentazioni con personaggi e scrittori di rilievo e ci saranno anche eventi musicali e eventi di natura artistica. Ma l'appuntamento più importante sarà quello di giorno 23. Una rievocazione storica con il matrimonio benedetto di Costanza e Bianca Leonidoria. È nata ricca ma staro contento. È una commedia brillante di Nino Martoglio. È un periodo di vendemmia nella nottata di San Michele Arcangelo. Si svolgono alcune situazioni particolari. Durante la vendemmia nascono degli amori e quindi è tutta da vedere perché è molto brillante. Ci sono molti equivoci ma la commedia gioca pure su tante altre vicende. Inizia da Siculiana il nostro tour e ci vede impegnati in provincia di Agrigento con molte date. Avremo pure il piacere di andare in provincia di Palermo, in provincia di Caltanissetta. Insomma speriamo di fare una bella estate. Dopo un po' di tempo mancavano. Il piacere è immenso anche perché ci immedesimiamo così tanto che è come se fossimo noi i personaggi reali dello spettacolo, come se vivessimo quella situazione.